Musica Tragico frontale sull'Orcianese, l'auto di due coniugi finisce nella scarpata, muore Nilvana Sperandio, grave il marito, feriti due dei tre giovani a bordo di una BMW. Ristori pulizia dei fiumi, ripristino degli argini, opere strutturali, ad un anno dall'alluvione la regione elenca gli interventi eseguiti in corso e in programma, tarati anche gli idrometri ai fini dell'allertamento. Calamità naturali, domani nelle Marche il primo test del sistema di allarme pubblico It Alert, il messaggio di prova arriverà a tutti i residenti e alle persone di passaggio nella nostra regione. L'Istituto Fermi di Mondolfo riapre le porte agli alunni, sabato scorso taglio del nastro dopo il termine dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. L'amministrazione comunale di Fano ha reso omaggio alla memoria di Salvador Allende, all'esterno del palazzetto dello Sport, una stella che ricorda il cinquantesimo anniversario del colpo di Stato in Cina. Oltre 120 visitatori agli scavi di Via Vitruvio, grande successo per le visite organizzate dalla soprintendenza delle Marche che ieri ha accompagnato i cittadini alla scoperta dei resti di un edificio di 2000 anni fa. A Pesaro, ultimi giorni della fiera di San Nicola, tutti a caccia dell'affare e migliaia hanno preso d'assalto i banchetti dei venditori ambulanti, nel mentre prosegue il monitoraggio della polizia locale, multati due venditori abusivi. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In primo piano l'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale orcianese tra Calcinelli e Villanova di Colli al Metauro, dove ha perso la vita nilvana sperandio 71enne di Fano. La pensionata era a bordo di una Dacia Duster guidata dal marito Ilario Ciccurilli di 77 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una BMW Station Wagon proveniente dal senso opposto. Nell'altra vettura c'erano tre ragazzi, di cui due rimasti feriti. L'impatto tra le auto è stato così violento da scaraventare la Dacia dei coniugi nella scarpata laterale. La donna, che è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, purtroppo è deceduta, nonostante ogni tentativo di rianimarla. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno allertato l'eliambulanza. Icaro ha poi trasportato il marito, noto geometra, all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. La dinamica del sinistro è al vaglio della compagnia Carabinieri di Fano, intervenuti insieme alla polizia locale impegnata a dirigere il traffico. Nilvana, titolare dell'azienda Il Condominio, lascia i figli Andrea e Francesco. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Fano per soccorrere una persona che si è ribaltata con un tagliaerba. La squadra del vigili del fuoco ha collaborato con il personale del 118 per stabilizzare l'uomo, il quale successivamente è stato trasportato con l'eliambulanza alla pronto soccorso. A circa un anno dall'alluvione che a settembre scorso colpì le marche, provocando morti e danni ingenti, la regione ha fatto un bilancio dei lavori eseguiti o in corso e degli eventi in programma per mettere in sicurezza il territorio. Vediamo il servizio curato da Simona Zonghetti. Non può rimarginarsi una ferita dove 13 persone della nostra comunità hanno perso la vita. Famiglie che sono distrutte, vite interrotte. Spero che tutto quello che si sta facendo potrà essere utile per non far verificare mai più fatti come questi. Rimarranno nella memoria dei marchigiani non solo le immagini dell'alluvione che colpì la nostra regione a cavallo tra il 15 e il 16 settembre 2022. Un evento eccezionale che provocò 12 vittime, una donna dispersa, 50 feriti, 150 persone sfollate e danni per diversi miliardi di euro. A un anno di distanza, questa mattina Palazzo Raffaello si è tenuta una conferenza stampa per illustrare le attività messe in campo e gli interventi necessari per mitigare il rischio idrogeologico e costruire un futuro più sicuro. Questo anche grazie ai 400 milioni di euro stanziati dal governo Meloni per il triennio 2022-2024 che sono stati tutti impegnati. Inoltre è stato approvato il piano operativo del commissario da 106 milioni di euro riguardo le opere complesse per la prevenzione del rischio idrogeologico. Il lavoro che è stato svolto in questo anno non ha precedenti, ha spiegato oggi il governatore e il commissario per l'emergenza all'Unione Francesco Acquaroli. Sono tantissime le risorse in campo grazie, ha detto, ad uno sforzo enorme del governo centrale che per la prima volta è intervenuto in modo così significativo. Altrettanto grande lo sforzo della regione che ha stanziato risorse proprie per circa 24 milioni di euro per la pulizia dei fiumi e per il contributo per automobili e furgoni danneggiati o persi. Nonostante i tempi burocratici, ad un anno di distanza c'è una mole di attività importanti che produrrà effetti rilevanti nelle valli del Misa e del Nevola e nel comprensorio del Catria in termini di misa in sicurezza e ripristino della zona, mitigazione del rischio, manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, oltre ad una significativa risposta infrastrutturale. C'è stata una prima fase d'emergenza dove occorreva mettere in sicurezza il territorio e ripristinare quanto era stato distrutto dall'alluvione. Lì ci sono stati interventi per 13 milioni di euro da parte della regione Marche, che è stato un intervento molto corposo in quelle primissime ore. Poi si è cercato di riprendere quello che era lo studio del 2016, che era stato solo dopo l'alluvione del 2014, c'è stato uno studio preliminare che prevedeva una serie di interventi strutturali che solo parzialmente negli anni sono stati realizzati. Quindi abbiamo ripreso quello studio, l'abbiamo ulteriormente ampliato, abbiamo provisto quindi la definizione di nuove vasche di espansione, oltre a quella di Bettolelle che stiamo, diciamo così, terminando, altre due vasche a monte di Passorip e a monte di Pianello d'Ostra, già finanziate e per le quali si sta procedendo con la progettazione, ma soprattutto in queste ore sono partiti lavori di straordinaria manutenzione all'interno del fiume Misa per 1 milione 800 mila euro. In queste ore ci sono sei ditte diverse che dall'interno di Senigallia fino a oltre Pianello d'Ostra, fino ad arrivare al ponte di Ostravetere, stanno ripulendo proprio complessivamente il fiume, ma stanno anche rimarginando gli argini, sistemando gli argini là dove c'erano state, diciamo, delle situazioni di sofferenza, tante di animali, ma anche proprio erosioni da parte delle correnti, lavori assolutamente straordinari mai realizzati prima. In queste prossime ore, ma quando dico prossime ore dico domani o dopo domani, partiranno altre sei somme urgenze sul fiume Nevola, sul fiume Cesano e sul fiume Burano, come dire comprendiamo tutto quanto l'alvio di quanto era avvenuto, diciamo, il 15 settembre scorso. Questi nuovi interventi saranno pari a un milione e 600 mila euro ugualmente di somme urgenze. In conclusione, il direttore della protezione civile delle Marche, Stefano Stefoni, ha ricordato che tutto il sistema di monitoraggio e allertamento è stato ripristinato, aggiornato e tarato in base agli eventi degli ultimi anni che prima non si erano mai verificati con così forte intensità. A proposito di eventi eccezionali, vi ricordiamo che domani nella nostra regione si svolgerà la sperimentazione nazionale del nuovo sistema di allarme pubblico IT Alert. Intorno a mezzogiorno sui telefoni cellulari arriverà un sms di prova che in futuro potrà essere attivato per informare i cittadini in caso di calamità naturali. Domani, martedì 12 settembre, tra le ore 12 e le 13, tutti i cellulari collegati a celle di telefonia mobile delle Marche, Campagne e Friuli Venezia Giulia squilleranno contemporaneamente con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche. IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, arriva infatti nella nostra regione con un messaggio di test che una volta a regime potrà essere attivato per informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Questa iniziativa, voluta dalle istituzioni europee, è stata intrapresa dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale che ha dato il via al percorso in molte regioni italiane. Non è necessario iscriversi né scaricare alcuna applicazione. Presidente Olivi, chi riceverà il messaggio? Il messaggio verrà ricevuto da tutte quelle persone che sono intorno a quel ripetitore. Vi faccio un esempio. Se siamo alla rotonda di Sant'Orso e la rotonda di Sant'Orso copre determinate utenze e quei telefoni che si collegheranno a quel ripetitore della rotataria di Sant'Orso riceveranno tutto il messaggio. Naturalmente non sarà solo la rotataria di Sant'Orso ma saranno tutti quei ponti che orbitano nello spazio, nella zona interessata. Quindi tutti quei telefonini riceveranno un'allerta molto pesante, un suono molto pesante che li porterà a leggere quel messaggio. E una volta operativo a livello nazionale, quando verrà attivato questo sistema? Verrà attivato e oltre ai messaggi normali della protezione civile verrà attivato quando la zona verrà interessata. Adesso si parla di vulcano, qui non ne siamo interessati, di maremoto non ne siamo interessati, nella nostra zona. Però noi siamo interessati, abbiamo fatto quel servizio del Dipartimento Nazionale su un LBCR. Parlavamo di un avvelenamento di un pozzo. Quanto tempo ci vuole per avvisare la cittadinanza affinché venga a conoscenza di questo problema? Con il T-Alert, questione di qualche secondo, tutti quelli che sono intorno a quel pozzo, a quella zona, leggeranno sul proprio telefonino di non bere l'acqua, ad esempio, perché quella parte, quella zona potrebbe essere incontaminata. È un messaggio che arriva subito, immediato. Basta solo leggerlo e non c'è bisogno di rispondere, non c'è bisogno di privacy. Arriva solo quelli che sono sotto quella copertura di quel ponte telefonico. E i cittadini che domani riceveranno questo messaggio, che cosa dovranno fare? Innanzitutto sarà un messaggio assordante, quindi per qualcuno sarà una sorpresa. Ecco perché siamo qui oggi, ecco perché durante la settimana tutti i social hanno dato la notizia, perché non si devono andare male, perché ci sarà scritta esercitazione, esercitazione sul messaggio. Quindi capiranno che è un messaggio di prova, devono solo dare un termine a quel messaggio. Dopodiché tutto quello che ha creato quel messaggio, chi vuole far sentire la propria voce e dare il proprio contributo, potrà andare sul sito della regione o sul sito di Itila Alert e in pratica lasciare il suo feedback, cioè dare dei consigli oppure delle migliorie. Quello che pensa può esprimere la propria opinione. Ancora cronaca con l'incidente avvenuto questa mattina alle 5.30 in località Apsella, nel comune di Montelabate. Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture e un auto articolato. Sul posto, oltre al 118 e alle forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro con un autobotte e l'ausilio dell'autogru. I pompieri hanno collaborato con i sanitari per estrarre il conducente di un'auto e hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. Un altro incidente stradale è accaduto nella notte tra sabato e domenica sulla statale nel tratto di Sottomonte, in particolare alle porte di Pesaro. Il sinistro si è verificato intorno a 1.15 di notte quando l'auto, una Jeep Renegade che procedeva in direzione Pesaro, si è ribaltata finendo la corsa su un fianco. L'incidente è stato causato probabilmente da un colpo di sonno e il conducente è stato trasportato dal 118 all'ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Nell'incidente non sono state coinvolte altre vetture. E ora andiamo a Mondolfo dove è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico Enrico Fermi alla presenza dell'amministrazione, cittadini e futuri alunni. Oltre 3 milioni di euro la somma totale per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico dell'Istituto. Ha seguito per noi la cerimonia Filippo Pucci. Dopo il completamento degli importanti lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico per un importo totale di oltre 3 milioni di euro di fondi ministeriali è stata riconsegnata alla comunità di Mondolfo la scuola Media Fermi. Molti cittadini insieme ai futuri studenti sabato scorso hanno partecipato all'inaugurazione del plesso scolastico alla presenza delle cariche civili, militari e religiose. Sulle note dell'inno di Mameli, esibita dalla banda del paese, taglio del nastro e visita all'interno della struttura. Siamo davvero fieri e orgogliosi come amministrazione comunale di riconsegnare alla comunità una scuola moderna, accogliente e finalmente sicura. Ci tengo a ringraziare tutti i tecnici, le imprese, gli uffici comunali, in particolare l'ufficio lavori pubblici, l'ufficio manutentivo, l'ufficio servizi educativi, il mondo della scuola a partire dalla dirigente Landini davvero perché c'è stato un grande lavoro di squadra, una grande collaborazione per arrivare a questo importante risultato e a questa giornata. Quindi da mercoledì i ragazzi delle medie riprenderanno qui l'attività scolastica. Riteniamo questo il migliore investimento sul futuro della nostra comunità e quindi metteremo e continueremo a mettere al centro dell'azione amministrativa la scuola e i ragazzi. I lavori partiti nel 2020 hanno interessato tutti e tre i corpi di fabbrica dell'edificio ovvero aule didattiche, segreteria e palestra. Tra gli interventi un occhio di riguardo è stato dato anche all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata per il miglioramento della salubrità degli spazi. A dare il proprio saluto anche il dirigente scolastico Anna Maria Landini. Oggi questo luogo che ho definito proprio luogo sacro viene restituito alla cittadinanza luogo sacro perché è un luogo in cui si fa cultura, si costruisce cultura luoghi in cui i ragazzi sperimentano relazioni, crescono come cittadini futuri futuri cittadini consapevoli, responsabili e colti. Che cosa si sente di augurare agli alunni in vista di questo anno scolastico? Amo molto la scuola e tanti anni che faccio questo lavoro e nonostante questo il giorno prima dell'inizio della scuola è per me sempre un giorno di emozione e la stessa emozione cerco proprio di diffonderla, di trasmetterla anche a tutti i ragazzi che frequentano proprio perché devono vivere la scuola sempre con quelle emozioni iniziali, con quella curiosità iniziale perché è solo così che si sta bene a scuola, si vivono buone relazioni e si fa veramente costruzione della conoscenza. All'interno dell'istituto sono stati migliorati gli spazi tra cui una grande aula magna che potrà ospitare anche tutta la comunità per incontri pubblici e la riqualificazione della ludoteca comunale. Proseguono dunque da parte dell'amministrazione gli interventi sugli edifici scolastici. Questo è il risultato di tanti anni di lavoro ma soprattutto di sinergia e collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo Fermi. La stessa cosa vale anche per l'istituto comprensivo Fadi Bruno di Marotta con il quale tra pochi giorni inaugureremo la scuola primaria Campus anch'essa oggetto di un importante rinnovo. Come amministrazione comunale riteniamo che la scuola sia un luogo per eccellenza della crescita, della formazione dei nostri ragazzi che rappresentano il futuro del nostro territorio e per questo ogni anno abbiamo investito e continuiamo ad investire in progetti più grandi ma anche in piccole migliorie, in attrezzature sempre nuove e in progetti di formazione validi ed attuali. A San Lazzero di Fano nella mattinata di oggi davanti al Palazzetto dello Sport è stata installata e inaugurata una stele dedicata a Salvador Allende. Vediamo di più nel prossimo servizio. Oggi è il cinquantesimo anniversario del colpo di Stato in Cile. Il Comune di Fano ha deciso di ricordare questa data importante per la nostra comunità con una stele, una stele dedicata alla memoria di Salvador Allende, il Presidente democraticamente eletto ed istituito dal colpo di Stato esattamente 50 anni fa. Negli anni 70 l'amministrazione comunale di Fano decise di intitolare il Palazzetto dello Sport proprio a Salvador Allende. A distanza di tanti anni, in questo cinquantesimo anniversario, il Comune di Fano ha scelto di rinnovare i sentimenti di solidarietà per la nostra città, non solo l'amministrazione comunale allora ebbe per il popolo cileno e per i tanti esuli che anche in questo territorio furono accolti e al tempo stesso rinnovare anche quei principi, quei valori di libertà, di democrazia e di giustizia sociale per il quale Salvador Allende visse e diede anche la sua vita. Salvatore Allende è stata una figura straordinaria, un uomo, un politico che ha lottato sacrificando la sua vita per la libertà, per la giustizia sociale. Molto bene fecero le nostre amministrazioni, la nostra amministrazione quando decise di titolare il Palazzo dello Sport della città di Fano proprio a Salvatore Allende, l'ex presidente del Cile, proprio per trasmettere un messaggio forte, un messaggio di pace, un messaggio di giustizia. Salvatore Allende è stato veramente una persona che si è adoperato per gli altri, per i più fragili, per i più deboli. L'11 settembre 1973 moriva Salvatore Allende. Sono trascorsi 50 anni e abbiamo deciso di ridedicare una nuova stela, riconfermare quella scelta giusta fatta diversi anni fa. Perché? Perché è una figura anche che non è italiana, perché noi pensiamo, e Fano si è sempre caratterizzata su questa, che certi temi sono universali, il tema della pace, il tema della giustizia sociale, della libertà devono essere sempre richiamati, a prescindere da chi li rappresenti. In fondo siamo tutti un pezzo di questa straordinaria comunità mondiale, che è sempre in sofferenza, è sempre di fronte alle insidie delle guerre, delle oppressioni. E allora, ecco, riconfermare questa scelta è anche un valore a cui la nostra amministrazione, la nostra comunità, e pensiamo di rappresentare tutti i cittadini, sanno che sono dei beni, dei valori irrinunciabili, vanno difesi in ogni momento e vanno soprattutto comunicati in ogni momento a tutte le persone, a tutte le generazioni. Parliamo di eventi culturali. Domenica la soprintendenza delle Marche ha aperto l'ex cantiere edile di Via Vitruvio a tutti i cittadini. 20 minuti di visita guidata dalle 10 alle 18 per illustrare le importanti scoperte. C'era per noi Cristiana Guerra. Pavimenti pregiati di marmorosa pavonazzetto e verde cipollino e mura ben conservate. Una bellezza che sorprende. Sono solo alcuni dei ritrovamenti mostrati durante lo straordinario appuntamento svoltosi domenica a Fano, dedicato ad un luogo di eccezionali scoperte. Si tratta della visita guidata al cantiere aperto presso gli scavi di Vitruvio dopo la scoperta dei resti di un imponente edificio pubblico ipotizzata alla Basilica di Vitruvio, citata nel De Architettura dell'architetto romano. Organizzatore della visita culturale, la sovrintendenza delle Marche che ha dato la possibilità di far conoscere a 120 cittadini e non solo agli addetti ai lavori ambienti sconosciuti e soprattutto tenere alta l'attenzione sull'importante rinvenimento. Relatrici d'eccezione le archeologhe Venanzoni, Aguzzi e la restauratrice Agostinelli. L'area di cantiere dove abbiamo lasciato aperti appositamente alcuni saggi di scavo in cui era possibile vedere gli ambienti di questo edificio pubblico che alcuni ipotizzano possa essere identificato con la Basilica ma che comunque è un edificio di notevole importanza in ogni caso quindi muri, pavimenti e un po' proprio la realtà di lavoro archeologico. Di questi non tutti stamattina era possibile insomma vederli per motivi di sicurezza ne abbiamo fatti vedere due in modo abbastanza completo gli altri li abbiamo un po' fatti intuire. Quali sono le cose che sono state scoperte di recente? La cosa più recente è stata la tomba di epoca medievale che abbiamo scoperto addossata a quello che abbiamo chiamato il Vanuat e dico medievale perché abbiamo ritrovato una moneta al suo interno che non abbiamo ancora ripulito ma sembra adattabile comunque al pieno medioevo quindi adesso ipotizzano 1200-1300. Saranno previste altre visite? Allora stiamo lavorando per riaprirlo perché sono state veramente tante le richieste che ci sono arrivate, è veramente arrivato qualche centinaio di mail quindi purtroppo non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste questo ci dispiace per cui stiamo lavorando per fare nuove aperture quindi consiglio di seguire insomma un po' i nostri canali social su cui daremo aggiornamenti su nuove aperture. Tra i recenti ritrovamenti anche due scheletri per ora al vaglio di studi e ricerche che potrebbero fornire ulteriori indicazioni verso nuove scoperte. Denominata la Pompei di Fano dal sottosegretario della cultura Sgarbi in visita nel mese di agosto gli scavi potrebbero rappresentare un'ulteriore importante attrazione per la città della fortuna come ha sottolineato il sindaco Seri. Diamo la possibilità ai fanisi, alle persone che sono qua di poter visitare questi scavi ovviamente ancora sono piccoli scavi piccole testimonianze ma di grandissimo valore ma che ci dimostrano che c'è altro e anche la prosecuzione ha dimostrato che ci sono altri pavimenti altre cose interessantissime quindi è bello perché queste cose sono dell'umanità vanno condivise e oggi ci sono tante persone sold out che hanno chiesto di poter fare questa visita per essere consapevoli del patrimonio straordinario che abbiamo in questa città. Ovviamente è anche un impegno a trovare ulteriori risorse noi nel nostro piccolo abbiamo già messo delle risorse a disposizione per far procedere il prima possibile sono arrivate anche risorse del Ministero dei Beni Culturali ma ora è importante che sia un impegno vero del Ministero con risorse significative per poter fare ulteriori scavi importanti e portare alla luce tutto quello che c'è sotto questa zona che si unisce, non dimentichiamolo, con il Teatro Romano l'Anfiteatro Romano, il Tempio e la Basilica di Vitruvio. Conferenza stampa alla Confartigianato Imprese di Ancona, Pesaro e Urbino dove è stato presentato il progetto intitolato Costruttori di futuro, dialoghi con per riflettere sul futuro dei giovani il servizio è stato curato da Stefania Schiaroli Paolo Creppetto, psichiatra, sociologo, educatore e Daniela Lucangeli, docente di psicologia dello sviluppo all'Università di Padova ed esperta di psicologia dell'apprendimento saranno loro i relatori di due importanti appuntamenti voluti da Confartigianato Persone nell'ambito del progetto Costruttori di futuro, dialoghi con Il primo appuntamento sarà il 16 ottobre con la professoressa Daniela Lucangeli parlerà del tema dell'intelligenza emotiva per orientare i ragazzi nel mondo della scuola e del lavoro e poi saremo al Teatro La Finice di Senigallia il 12 novembre con Paolo Creppetto invece che è un psicoterapeutico, educatore e sociologo per invece parlare di come diventare punti di riferimento per le nuove generazioni, quindi per i nostri figli, per i giovani di come trovare un codice comunicativo adeguato a parlare con delle generazioni che alle volte sembrano sordi alle nostre richieste, anche professionali ma invece molto spesso non siamo noi in grado di parlare con loro Incontri che nascono dalla volontà di supportare coloro che fanno parte dei processi formativi ed educativi famiglie, scuole, imprenditori fornendo loro strumenti per rafforzare un dialogo costruttivo con le giovani generazioni avvicinandole anche in modo più consapevole al mondo del lavoro Importante secondo me è anche la trasmissione del saper vivere vivere l'esperienza lavorativa e vivere anche fuori dell'impresa Chi arriva a una certa età ha vissuto tante di queste esperienze e questo è un tesoro prezioso che può essere trasmesso alle nuove generazioni per evitare anche tanti errori che quando uno è nel pieno dell'attività nell'inizio dell'attività non vede perché è inesperto Ecco, questa esperienza che è un tesoro prezioso noi la possiamo trasmettere e questo valorizza anche chi dà questo contributo perché si sente importante, perché è importante A prendere parte alla conferenza stampa di presentazione del progetto Graziano Sabatini e Marco Pierpaoli Presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino che hanno sottolineato l'importanza di creare un'alleanza tra chi svolge un ruolo educativo e i giovani aiutare i giovani a riscoprire valori per costruire il loro futuro e quello delle comunità in cui vivono Noi siamo un paese, dato di questa mattina, dove il 12,7% dei giovani sta anche abbandonando la scuola è il valore più alto in Europa ma la cosa veramente grave è che questo valore seppur di poco da noi sta crescendo in Europa è al 9% e sta diminuendo quindi significa che abbiamo sicuramente una crisi di valori che dobbiamo fare in modo di sapere interpretare e saper riconoscere per avere poi domani degli adulti consapevoli di quelli che sono gli impegni dell'essere adulti E caccia all'affare negli ultimi giorni della fiera di San Nicola a Pesaro questa mattina siamo andati nelle vie della fiera per intervistare i visitatori Sentiamo Come sta andando questa fiera? Bene, bene, molto bene C'è molta gente, però bene Hai trovato qualche prodotto, qualche vestito, abbigliamento interessante? Allora no, perché al momento non cerco niente però c'è molta roba interessante, vedo C'è ancora della convenienza in queste fiere? Ma sì, per esempio in questo banco ci sono delle maglie bellissime a 5 euro quindi se si cerca si trova Come sta andando la fiera di San Nicola quest'anno? Sta bene, siamo appena arrivati perciò dobbiamo ancora fare il giro Però c'è molta gente? Molta gente, sì Poi al pomeriggio c'è ancora di più Va in cerca di qualche prodotto specifico? No Quello che c'è Dipende da cosa troviamo Va bene, grazie L'occasione si trova se uno non va in cerca di un prodotto specifico Però quest'anno c'è molta gente comunque? Molta, sì Soprattutto nei banchi del mangiare se devo essere precisa Cosa ha visto? Ma non ho visto tante novità È la fiera normale, come tutti gli anni Lei va in cerca di un prodotto specifico oppure insomma? No, sono venuto così per vedere, mi basta Come tutti gli anni Non so se ci è conveniente oppure no Come sta andando la fiera? Hai già visto qualche prodotto che interessa particolarmente? Sì, veramente Ho visto la borsa che mi interessa Siamo venuti apposta perché abbiamo visto che i prezzi sono anche convenienti Allora siamo venuti qua Io sono nuova del posto abito da poco e sono venuta a vedere ho visto che è una bella fiera Quando si spende è sempre un piacere spendere Anche lei è la prima volta in questa fiera? Sì C'è della convenienza? Sì, molta Ha trovato qualche prodotto interessante? Adesso siamo qui vicino alle borse Tempo tiene, tutto a posto Speriamo per questi ragazzi che lavorano Ha trovato un prodotto particolare? Un abbigliamento o qualcosa? Purtroppo no È giusto per tradizione Viene a fare un giro Come sta andando questa fiera? Molto bene Io sono arrivata da poco però dai sì c'è un sacco di cose da vedere da comprare anche troppe per i miei gusti ecco sarebbe meglio anche meno È in cerca dell'affare del giorno? Eh certo, sì qui ce ne sono troveremo sicuramente qualcosa C'è anche della convenienza quest'anno? Beh sì, dai ci sono dei buoni prezzi vedo cose abbastanza buone quindi buone marche sì sì, assolutamente Cosa hai acquistato? Ah, per adesso solo un paio di pantaloncini però ancora lo dobbiamo ancora girare No dai, 3 euro no? Hai fatto un buon affare Eh dai Dunque c'è ancora della convenienza in queste fiega? Sì, sì secondo me si trova assolutamente se una voglia di cercare si trova sicuramente l'affare Durante la fiera sono stati eseguiti dei controlli disposti dal comando di polizia locale dell'Unione Pian del Bruscolo dalle verifiche effettuate a circa il 15% dei venditori sono emerse alcune violazioni infatti due ambulanti sono stati colti in una condizione di totale abusivismo visto che le concessioni erano intestate ad altri ambulanti che avevano subaffittato il posteggio La pratica del subaffitto in questo caso è vietata e sanzionata con 500 euro di sanzione amministrativa Invece il commerciante abusivo che svolgeva l'attività dovrà pagare una sanzione di 5.000 euro mentre la merce è stata sequestrata ai fini della confisca E ora l'album di Fano TV Auguri a Mario Peroni e Giuliana Mantoni che sabato 9 settembre hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Nozze d'oro per questa coppia residente a Fano Auguri da tutti i familiari e dallo staff di Fano TV Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338 49 68 250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di strada by Fano TV E' tutto per questa edizione grazie per averci seguito e buona serata Grazie a tutti